Su una nota agenzia stampa leggo che Giorgia Meloni ha dichiarato noi difenderemo Dio, la patria e la famiglia, fatevene una ragione Giorgia Meloni ci sono le basi della teologia bene che tu dica che vuoi difendere la patria e la famiglia ma non puoi dire che noi difenderemo Dio perché Dio non ha mica bisogno del nostro aiuto semmai è Dio che aiuta noi, capito? Giorgia Meloni, guarda Giorgia Meloni che su Youtube c'è un mio antichissimo video intitolato Dottrina Cattolica e in questo antichissimo video intitolato Dottrina Cattolica ci sono le basi della teologia vanno ad ascoltare questo video, capito? Giorgia Meloni non lo direi più noi difenderemo Dio Dio no, la famiglia, la patria va bene ma no Dio Dio non ha bisogno del nostro aiuto, capito? non ha bisogno Dio del nostro aiuto non lo direi più questo perché scusami sai, non ti offendere se no la gente si mette a ridere, capito? Giorgia Meloni io sono serafino massoni, capito? sono stato professore di filosofia e storia nei licei poi sono stato preside di ruolo nei licei classici scientifici e sono l'autore di queste opere capito? Giorgia Meloni si tratta di teologia non lo direi più noi difenderemo Dio Dio è Dio che mai difende noi, capito? Giorgia Meloni ok, Giorgia Meloni guarda che nel riassunto di questo video Giorgia Meloni tu trovi il servizio stampa di quella agenzia stampa e poi trovi pure il link che ti porta sul mio antichissimo video intitolato dottrina cattolica capito? Giorgia Meloni mi raccomando non lo direi più perché Dio non ha bisogno del nostro aiuto capito? Giorgia Meloni semmai siamo noi che abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio va bene Giorgia Meloni a te Giorgia Meloni a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni